Andiamo al filo conduttore di questa settimana, ve l'ho anticipato in apertura di trasmissione, la casa, il caro casa abbiamo intitolato questa settimana appunto. Oggi vogliamo parlare del mercato immobiliare, dare uno sguardo all'andamento generale dei prezzi. E allora saluto l'ospite che ci ha raggiunto in studio, con me questa mattina c'è Marco Pusceddu, presidente regionale della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Profesionali. Buongiorno. Grazie mille per l'invito. Senta, la prima domanda è come sta andando il mercato immobiliare in generale nella nostra regione. Prezzi in crescita? Sì, in lieve ma costante crescita. Quest'anno, l'anno 2022 si è chiuso con un più 2,5-2,8%, quindi consolida il valore della casa. La casa è vista come un bene reale, quindi toccabile e quindi ci permette di sentirla nostra. E oltretutto in questo periodo in cui il mercato finanziario, quindi il carovita che si alza, l'inflazione che galoppa, il conflitto russo-ucraino che ha creato appunto gli aumenti del gas, della luce per i nostri cittadini, ha permesso comunque di vedere la casa come un bene rifugio. E ha spostato il mercato finanziario, quindi gli investitori, sul mercato della casa, aiutando il mercato della nostra regione a crescere. Quest'anno abbiamo visto una crescita importante, siamo arrivati a circa 70.000 vendite in tutto l'anno 2022. Quindi insomma il mercato immobiliare dopo la fase difficile del Covid è ripartito in pieno. Assolutamente sì. Ti faccio una domanda difficile però curiosa, insomma siamo curiosi di saperlo. La provincia meno cara è quella più cara, ci puoi fare qualche esempio? Sì, allora la provincia meno cara in questo momento è Biella, che sconta un po' la struttura vetusta degli immobili in essere. Ci sono pochissimi cantieri di nuova qualificazione, ci sono delle riqualificazioni, che è la cosa più importante. Loro nella parte di riqualificazione hanno il valore intorno al 1200-1200 euro al metro quadrato, invece sugli immobili vetusti scendiamo anche a 600 euro al metro quadro. Mentre le zone più care, al di là del capoluogo di Torino, che chiaramente ha dei picchi indubbiamente più alti rispetto alle altre province, la zona che segna maggiori valori al metro quadro è la zona lacustra, quindi il Verbano Cuseosso, il Basso Novarese, che è premiata anche dal mercato estero per le ville e le proprietà importanti che ci sono. Quindi lì il prezzo al metro quadro? Saliamo dai 2,5 anche lì, possiamo arrivare anche a 4, 5, 6 mila euro al metro quadro, se le proprietà sono di un certo tipo. Però mi ha incuriosito, Torino parliamo, il prezzo massimo che si può raggiungere? Il prezzo massimo, Piazza San Carlo, 4500 euro al metro quadro, per darle un valore. Siamo però in una media del 2200-2500 euro al metro quadro. E' una delle città, nonostante è una metropoli, è una delle città più accessibili rispetto alle grandi città italiane. Lo accennava prima, tra le variabili che fanno oscillare il mercato immobiliare c'è sicuramente quella relativa ai tassi dei mutui che sono raddoppiati in un anno. La Banca Centrale Europea, fra l'altro, ha ribadito che alzarli è l'unico modo per abbattere l'inflazione. Fra l'altro negli ultimi giorni la Gard ha anticipato che qualche altro ritocco potrebbe esserci. Ecco, Puscedo, siete un po' preoccupati di questo? Sì, relativamente. Nel senso che questi tassi che noi stiamo vivendo in questo momento sono sicuramente un problema per chi vuole accendere un mutuo e chi vuole comprare casa. Se facciamo un esempio, l'anno scorso, in questo periodo, per prendere un mutuo di 100.000 euro, con una rata di 500 euro al mese in 20 anni, lo si poteva avere. Quest'anno, con la stessa rata, il mutuo è di 83.000 euro. Quindi questo fa capire quanto erode il rapporto rata-reddito delle famiglie, del nucleo familiare. Quindi sicuramente, visto i prezzi che comunque non scendono e lievemente aumentano, la possibilità di accendere un mutuo in questo momento è più complicata per il consumatore. Diciamo che stiamo scontando ancora un annetto circa, quindi se tutto va bene, dopo dovrebbe armonizzarsi un pochino di più. Teniamo conto che questi tassi però li avevamo già circa dieci anni fa, quindi chi ha già fatto un mutuo oggi sta sostanzialmente mantenendo gli stessi valori. Recuperare anche zone industriali, quartieri come questo, è fondamentale. Tra l'altro l'ingotto, lei mi diceva, sta riprendendo vigore. Assolutamente sì, è capofila dell'aumento dei valori nella zona di Torino. Dopo la riqualificazione, i lavori della metropolitana, la riqualificazione della viabilità e anche il cantiere che si è chiuso del Grattacielo della Regione ha sicuramente di dato vigore al quartiere e quindi questo deve essere uno spunto per tutti quei quartieri ancora oggi dismessi o in disuso e la riqualificazione resta una parte importante. Un'ultima domanda flash, il mercato degli affitti uguale a quello delle compravendite in ripresa? Direi assolutamente sì, prezzi in rialzo, visto che le richieste sono molte ma le disponibilità sono molto meno, però l'affitto quest'anno è aumentato dell'8% per quello che riguarda la crescita dei numeri delle registrazioni che abbiamo notato dei contratti in locazione e anche i prezzi si sono alzati dal 3 al 4% in qualche zona anche oltre. Grazie, grazie a Marco Puscedo, presidente regionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Grazie a lei, buona giornata.